Benvenuti in Chaxi Gallery Tutte le epoche dell'arte in una sola galleria Solo a Chaxi Gallery, solo per voi Sagacia, intelligenza, sarcasmo, ironia Sono questi alcuni aggettivi che possiamo utilizzare per descrivere l'opera di un grande pittore Un grande artista, pittore e scultore italiano del Novecento, ovvero Franz Borghese Bentrovati e bentrovati Questa è la Galleria Chaxi, un nuovo approfondimento della nostra galleria E io sono Mirko Gambero E come ho proprio anticipato adesso, oggi parleremo di un grande, un gigante del Novecento Un pittore che ha ripreso nelle sue opere non solo una nota di ironia E una metafora del perbenismo borghese Ma ha proprio portato nelle sue tele, nelle sue sculture Una grande consapevolezza, una grande intelligenza artistica E anche una cultura artistica di grandissimo livello Perché nelle sue sculture c'è tanto dell'arte del passato È difficile magari immaginarlo, ma vedendo tutta l'opera di Borghese Possiamo individuare dei elementi e degli omaggi a Bosch, a Bruegel Per parlare dei più antichi Poi sicuramente nel periodo in cui realizzava le opere dedicate alla guerra C'è tantissimo di Otto Dix, di Georg Grosch e di Maccari Tra l'altro Borghese studia all'Accademia delle Belle Arti di Roma E tra i suoi professori c'erano grandissimi nomi Anche del collezionismo attuale come Turchato, per esempio E anche Capogrossi, Giuseppe Capogrossi, insomma è stato un grandissimo artista Che si è formato con altri artisti veramente straordinari E a sua volta è diventato uno di quei pittori e scultori Che il collezionismo italiano e internazionale ricerca sempre di più Oggi voglio mostrarvi due esempi della sua produzione pittorica Uno di grandi dimensioni, un metro per ottanta L'altro è un olio su tela L'altro più piccino, un olio su tavola Sempre bellissimo E parla sempre di questi suoi borghesi Questi personaggi che raccontano un po' in maniera goffa Quello che molti di questa classe sociale cercavano di raggiungere Piano piano questa nobiltà agognata e quindi sempre precisi nei loro cilindri Oppure le donne sempre con i loro bellissimi cappellini Anche quando magari sono a cena a mangiare delle polpette Quindi tanta ironia, tanta presa in giro Ma anche tanta consapevolezza di questa volontà da parte di questa classe sociale Di fare un salto appunto sociale, raggiungere una successiva classe E poi addirittura apparendo ridicoli in un certo senso Quindi appaiono goffi, appaiono imbruttiti Che facciano che siano funamboli, che siano banchieri, che siano impiegati Qualunque cosa facciano questi borghesi appaiono sempre un po' goffi E poi è particolare vedere come anche la figura della donna Non è rappresentata praticamente mai da sola Perché nella visione un po' possiamo dire del luogo comune La donna rappresenta l'altra parte della famiglia Quindi l'altra parte del borghese E qui abbiamo appunto un iconico, il borghese del 77 Che è un'opera nostra pubblicata e con l'autentica dell'artista E poi un'altra scena molto divertente Questa passeggiata dove troviamo appunto marito e moglie Andare controcorrente rispetto agli altri personaggi che sono presenti 5 personaggi, tutti e con i loro cilindri A meno il cameriere che riconosciamo dal fatto proprio che non ha il cilindro Probabilmente sono in un ristorante La famosa cena con le polpette che dicevo poc'anzi E tantissimo deve il 900 italiano a questo artista Tanto ancora apprezzato dal punto di vista collezionistico Io mi mostrerei adesso proprio nei dettagli Questi due gioielli che abbiamo a disposizione in galleria Uno, il borghese, proprio un quadro da museo Per la forza pittorica che sprigiona E anche per la qualità di altissimo livello I colori, a me quando la prima volta che l'ho visto Mi ricordavano proprio quelli dei già citati pittori tedeschi Quelli che erano stati relegati a arte deviata Da Hitler in Germania Perché raccontavano la verità Come ripeto, io ripeterli, Dix e Grosch Li vediamo e poi vediamo anche l'altra tavola magnifica Entriamo nei dettagli di questi splendidi dipinti Ecco, questo è il borghese del 77 Poi mentre vediamo i due dipinti Ricordiamo un po' di cenni storici della vita del pittore Nasce a Roma il 21 gennaio del 41 E oltre ai già citati Capogrossi e Turchato Come professori a Roma Ebbe anche Domenico Purificato, Umberto Maganzini E tra l'altro fondò giovanissimo nel 64 Un gruppo di artisti Che aveva poi un'omonima rivista a seguito Il Ferro di Cavallo Addirittura nel 68 ebbe la sua prima personale Dove espone il grande quadro in Morte di Luther King Poi nel 70 si affacciano nella sua pittura La satira è il sarcasmo che lo rendono appunto leggendario Come in questo caso Inizia proprio il ciclo dei borghesi Vestiti alla moda degli anni 10 E qua richiama sempre la pittura tedesca di Grosch e Dix Ma non c'è solo questo ammiccamento Questa predilizione per la pittura tedesca Oppure come abbiamo detto prima per Bosch o per Bruegel Ama la pittura con scene corali E quindi è un amante per esempio di Goya Quindi vediamo quanti riferimenti alti e antichi Ha un pittore contemporaneo come Franz Borghese Poi negli anni 80 realizza le sculture Quelle dei trampoli, il ritratto immaginario ed altre Poi negli anni 90 si dedicherà alla fisiognomica Basandosi sugli studi delle ricerche del dottor Cesare Lombroso Che poi sono state ovviamente superate E nel 2005, poco tempo dopo la sua ultima mostra pubblica Presso un importante palazzo quattrocentesco di Venezia Muore a Roma nel suo studio di Via della Seggiola L'opera di Borghese è una metafora del perbenismo Del cosiddetto politically correct E proprio basato su questi uomini impeccabili Con i loro cilindri e donne con i loro cappellini Come appunto vediamo in queste opere L'analisi ironica di un mondo visionario Per risaltare una mancanza di valori Caricature di un'umana debolezza Di una società in crisi Che potrebbe essere anche quella nostra attuale Ecco, i due dipinti Anche se di diverse dimensioni Esprimono lo stesso concetto Questa ironia, questa polemica Al perbenismo, al politically correct E qualcosa che affascina Anche nel modo pittorico Perché un pittore contemporaneo Dovrebbe essere più interessante rispetto a un altro La famosa frase che tanto si sente dire Spesso quando si parla di arte contemporanea Lo saprei fare anche io Ecco, qui non è così banale Nonostante le figure siano caricaturali Siano appunto goffe E abbastanza semplificate Potremmo dire Dietro c'è tutta una ricerca Che parte appunto Dalla pittura di Bosch Poi passa dal 500-600 Bruegel Addirittura per Goia Quindi dal 7 all'800 Fino ad arrivare Alla cosiddetta arte deviata tedesca Cioè c'è tanta ricerca Tanta consapevolezza E poi è un pittore Che ha studiato Che ha ben presente Che cosa vuol dire La consapevolezza pittorica Cosa vuol dire dipingere Qui quindi abbiamo Due opere straordinarie Di un grandissimo artista Ecco, se il video vi fosse piaciuto Lasciate un mi piace Ovviamente per rimanere sempre aggiornati Potete cliccare sulla campanella di YouTube Così vi possono arrivare le notifiche Per quando ci saranno nuovi approfondimenti Se volete continuare a seguirci Sugli altri nostri canali social Ricordate di seguire le pagine Facebook Instagram E ovviamente Twitch YouTube Di Chuxi Gallery Per questa settimana è tutto Vi do appuntamento alla prossima Grazie Benvenuti in Chuxi Gallery Tutte le epoche dell'arte In una sola galleria Solo a Chuxi Gallery Solo per voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti